Io sono nato il 28 dicembre 1922 a Todi, comune di Todi. Sono figlio di agricoltori, per generazione e generazione provengo da una famiglia che per generazione e generazione sono dedicati all'agricoltura. Quindi anche io da ragazzino, che cosa ho fatto? Mio padre era proprietario di un terreno nel comune di Frattatodina e sin da ragazzino ho aiutato nei lavori agricoli, perché in quei tempi non c'era altro che l'agricoltura, non c'erano altre situazioni. Ebbene, allora sono andato a scuola frequentando la Medi, perché dopo la quinta elementare sono stato fermo per due o tre anni, perché non c'era la possibilità di andare a scuola sia perché le scuole, il luogo non c'erano, sia perché anche le possibilità diciamo c'erano e non c'erano. Perché per quanto che io provengo da una famiglia, come ho detto, di agricoltori, si stava abbastanza bene rispetto un po' agli altri. Pertanto mio padre è riuscito, quattro fratelli e una sorella, mandare a scuola tutti, alcuni con le scuole superiori, quindi tre dei maschi, compreso io, le scuole superiori. Io ho fatto la scuola di istituto Granio Augusto Ciuffelli di Todi, scuola molto, diciamo così, allora che andava per la maggiore, era una scuola veramente quotata. Quindi arrivato all'età, diciamo così, di venti anni, sono stato chiamato alle armi, sono stato chiamato alle armi e mi hanno mandato a Fanu per un periodo di tre o quattro mesi. Facevo parte del centoventesimo reggimento, fanteria. Dopo questi tre o quattro mesi, mi hanno imbarcato a Bari per la Croazia. La Croazia allora non era più in guerra, era passata l'ondata della guerra in quel periodo lì. Quindi parliamo appunto del 42, i primi mesi del 42. Quindi io facevo parte di questo centoventesimo reggimento, che era un reggimento di presidio, non di guerra. Quindi pericoli non c'erano, però era una vita piuttosto grama, brutta, molto disagiata, eccetera. E allora seppi che c'era la possibilità di fare la domanda per il passaggio dall'esercito all'arma dei carabinieri. Si riflettei un pochino e poi pensai di, dico, non per fare carriera come del resto, tra parlando ci avrebbe voluto, mio padre è molto appassionato di vita militare. E allora riflettei un po' e dico, ma, sa, qui la vita non è granché. E allora se mi accettano la domanda, così torno in Italia. Infatti, dopo, mi pare, circa tre mesi, tornò la risposta positiva, perché, non so se ora, come allora, ma allora facevano le indagini, se tu avevi fedele pulito, eccetera, eccetera, quindi non era facile entrare nell'arma dei carabinieri, quindi, sì, non avevi, se non era tutto a posto. E allora mi mandarono a fiume per una certa contumaccia, da quindicine di giorni, e poi direttamente a Bari a fare il corso da carabiniere. Il corso da carabiniere non durò tanto, durò circa tre mesi. Poi, poi, a Roma, mandarono a Roma, a Piazza del Popolo, alla regione del Lazio. Questo era l'agosto del 1943. Agosto 1943. Una bella sera, venne il capitano, il nostro comandante, dei carabinieri, con una lista di nomi, tredda, in cui era compreso anche io, e ci disse, preparatevi, perché a notte inoltrata si parte per una missione speciale. Missione speciale, senza aggiungere altro. Beh, veramente, eravamo un po' preoccupati, missione speciale, ancora c'era, eravamo in guerra. E volevo dire, va bene, partimmo, sul tardi, e arrivamo, sul fanno del giorno, appena giorno, non a campo imperatore, bensì alla stazione base di campo imperatore, dove parte la funivia che porta su a campo imperatore. Lì c'era, e ci sarà ancora, un caseggiato, una bella villa, una grande villa, che forse l'avranno fatta già sgombrare da prima, perché era ammitata, e prendemmo possesso di questa villa, e lì siamo rimasti per tre o quattro giorni, facendo, appunto, la guardia a Mussolini. Per la verità, non capisco come, pensando al poi, perché ci dissero che se Mussolini avesse tentato di scappare, dovevamo sparare. Questi furono gli ordini. Passati questi quattro giorni, andiamo su a campo imperatore, e quindi si tratta dei primi del mese di settembre 1943. Sì, Sì,